Mio padre disse, prese, acquistò un'azienda, un po' ammianzaputa, acquistò una piccola azienda. Una piccola azienda facevano, c'era una persona sola, lavorava al ferro e facevano le finestre in alluminio. Poi, insomma, vabbè, dopo un po' con lo showroom, c'era tutto un crescere magari come vendita, però poi dal punto di vista marketing, strategie, zero. Il video l'ho sempre conosciuto, un po' le parole, perché dall'inizio del blog è che lo seguivo. Lo seguivo perché avevo bisogno di un, avevo da fare dei lavori importanti, avevo bisogno di un supporto, un supporto che mi seguisse nel fare questi lavori. Il supporto però era naturalmente visivo, cartacido, diciamo, perché poi non ci si conosceva proprio viso a viso. Quindi è stato un po' un incontro virtuale in fotografia, l'avevo sempre lì davanti, scaricato, stampato e mi sono fatto questi due lavori e sono andati perfetti, perché poi magari uno che non è pratico magari non trae vantaggio, ma uno magari che ha un po' di esperienza, c'era oro quello lì, insomma, non è stato necessario fare i corsi a Bolzano, non è stato necessario niente, ma era tutto scritto lì, quindi quando uno capisce qualcosa lì era già... Poi dopo, niente, una serie di mail, i primi webinar, gli interessanti e poi il corso a Bologna. Con questo sistema appunto sono riuscito a inserire Giovanni, questo è già un grosso, per me, un grosso traguardo. E poi ho fatto una guida anche per... Ho fatto una lettera di presentazione che appunto do quando... Quando chi arriva non lo mando via senza niente, do sempre una lettera di presentazione con chi siamo. Poi ho fatto, ora proprio ultimamente ho fatto la guida alla porta blindata e ho visto dei miglioramenti, piccoli miglioramenti, però importanti, per me importanti, perché a me ieri non avrei ricevuto telefonate e per me vuol dire, insomma, ecco... Che tutto funziona. Io tutto questo è venuto fuori dal sistema finestra, non è che me lo sono trovato da me, quindi... No, aspetta, le idee, gli input, perché poi si è messo e le hai fatte tu, non è che le ho fatte io. Certo, è l'idea delle procedure che mi permettono di fare degli interventi di manutenzione, di prima manutenzione, seconda manutenzione, su delle coperture, tutta una serie di controlli che, tipo, se sono tutti verdi, arrivo in fondo e va bene, se ce n'è uno rosso non va bene. Quindi è un modo per facilitare chi... Che non ci vada io, ecco, io non ci volevo andare sul tetto, controllare, ci volevo andare a quell'alla. I ragazzi, e quindi li ho messi in condizione di andare lì con una tabella che poi fa anche scena, no? Non è che solamente arrivi lì con una tabella da compilare, vedi con un foglio vuoto e, insomma, ti dà l'idea di uno sprovveduto, no? Magari va lì con una check, rosso-verde, rosso-verde, e lì hai un'altra... L'ho provata su un tecnico e è rimasto colpito da questo discorso lì, e lì hai un'altra... E lì hai un'altra... E lì hai un'altra... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!